Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia, versione global. Ci troviamo in zona banner, poiché è uscita una nuovissima ARM LD, ovvero l'LD di Garland. E Garland è uno di quei personaggi che voglio ottenere a tutti i costi, il che significa che andremo di gemme. Ora so che essendo Garland un antagonista uscirà in futuro con la sua burst, ma attualmente credo che possedere Garland con la sua LD possa tornarmi parecchio utile. Quindi direi di iniziare immediatamente il pull, come detto andiamo di gemme. Abbiamo anche la bellezza di tipo 841 ticket e magari spenderemo nel prossimo banner, ma per il momento andiamo di gemme. Posso benissimo arrivare anche al P.T., arrivare a 75.000 gemme e ottenere la sua arma, grazie al Green Token, anche se spero di ottenerla prima. Purtroppo in questo banner non abbiamo la free multi e questa multi... dai, un cambio, subia, non iniziamo malissimo. Credo che sia una monoro, però se mi esce l'LD va bene. Una monoro con un'arma che non ci interessa assolutamente, perché significa che è una powerstone. Ah, e naturalmente di questo banner mi interessa solamente l'LD di Garland, perché tutte le altre armi già le posseguo. Quindi siamo alla ricerca di una singola arma. Sì, lo so, sarebbe il caso di andare di ticket, perché così forse è un po' uno spreco di gemme, ma... Come detto, voglio Garland a tutti i costi. In questo banner si ha anche l'opportunità di ottenere l'arma burst di Squall, ma non la sua LD. Quindi, se volete pullare per Squall, questo non lo definirei il banner più adatto. Però se magari già avete beccato l'LD e non mi interessa ottenere a tutti i costi la sua burst, magari potreste pullare su quest'altro banner e, che ne so, scularla, magari, mentre cercate l'LD di Garland. Continuiamo con la multi. Già siamo arrivati alla terza multi. Quindi abbiamo speso già 15.000 gemme e stiamo scendendo sotto il mezzo milione, ma attenzione che abbiamo un orb dorata. Orb dorata, ex assicurata, su via. Un ex ci sta, non ce ne serve nessuna, però spero che a posto dell'ex ci sia un LD. Non sarebbe male ottenere così l'LD di Garland. Dammi l'LD, niente, ex di Wall. Speravo un LLD, onestamente. Come detto, non me ne faccio nulla. Tutti questi personaggi ho tutto, tutte le armi di tutti. Sia di Sephiroth, sia di Wall, sia di Garland. E quindi sono delle powers. Ok, non mi posso lamentare, su via. L'importante è che mi esca velocemente quest'arma LLD. Altra orb dorata, altra ex assicurata. Però ho visto un flash, un po' come ho visto con Squall, stavolta. Magari, eh? Poi magari mi sbaglio io. Però l'ultima volta che ho visto sto flash, si è presentata l'arma LLD. Quindi magari si presenta anche qua. Attenzione. Sì, ragazzi, abbiamo preso l'arma LLD. Abbiamo ottenuto l'arma LLD. Fantastico, fantastico. E quindi praticamente quando fa tipo quel flash, quando si apre l'orbe dorata e fa quel flash, spunta fuori l'arma LLD così. E ottimo, ragazzi, ottimo. Abbiamo speso quanto? 20.000 gemme, se non sbaglio. In 20.000 gemme abbiamo ottenuto l'arma che cercavamo. Mi serviva una singola arma da questo banner. Sono contentissimo. L'abbiamo ottenuta davvero in 4 multi. Quindi 20.000 gemme. Nulla di che. Beh, a questo punto, ragazzi, visto che così il video durerebbe fin poco, non ho nient'altro da pullare attualmente del banner. Quindi direi di andare a potenziare l'arma LLD di Garland. Arma limited, arma LLD. E vi ricordo che per potenziarla ci bastano semplicemente delle power stone. Ne abbiamo 103, ma ne rifaremo parecchie. Potenziamola al livello massimo. Sblocchiamo la sua abilità. E poi ce l'andiamo a vendere. Mi raccomando, ragazzi, avete sbloccato l'LD di Garland. L'avete portata al livello massimo. Non pensate minimamente di vendere la sua arma X+. Vendete la sua LLD. Una volta sbloccata l'abilità, non ne avrete più bisogno, quindi potete andarvi a vendere tranquillamente quest'arma. Andiamoci a vendere dunque la 35 di Wall, la 15 di Wall, la 35 di Garland e le LLD di Garland. Per il momento l'arma X di Wall la lascio stare di lato, che magari in futuro può tornare utile. Non lo so, ma per il momento non mi sento di vendere le armi X così un po' a gratis. Secondo me possono ancora tornare utili. Abbiamo speso 12 Power Stone per migliorare l'arma LD a Garland e ne recuperiamo le bellezze di 7. Quindi abbiamo speso solamente 5 Power Stone. E forse ho anche qualche altra arma da vendere, ma poi lo venderò io off camera. Ragazzi, ve lo dirò ancora una volta, dopodiché vi prometto che non ve lo dirò più. Non vendete minimamente l'arma X+, se non avete ottenuto l'arma Burst di quel personaggio. In questo caso Garland non ha l'arma Burst, possiede solamente l'arma LD. Il che significa potenziate l'arma LD, sbloccate l'abilità dell'arma LD, vendete l'arma LD. Non toccate l'arma X+, state attenti, se no me ne potreste assolutamente pentire. Naturalmente ragazzi, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pool, vi auguro di trovare velocemente l'arma LD di Garland, di Squall, la Burst di Squall, insomma, qualsiasi arma sia presente attualmente nei banner, e magari anche in quelli futuri. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina, così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!